La bellissima Romina Power ha deciso di godersi qualche momento di puro relax immergendosi nella natura, beneficiando delle sue meraviglie. Romina Power, ogni tanto va via Romina Power è una delle artiste italiane più apprezzate al mondo. Il suo nome non può che essere inevitabilmente affiancato a quello del suo ex compagno di vita, Albano Carrisi. È trascorso molto tempo dalla loro separazione, ma il pubblico internazionale fa ancora fatica a considerarli come due ex. Di fatto lo sono, le loro vite sia private che professionali viaggiano ormai su binari differenti, salvo qualche ritorno di fiamma puramente artistico sui palchi di tutto il mondo? In seguito alla sua separazione dal cantante, Romina ha intrapreso un percorso di evoluzione spirituale e si è dedicata alla cura della sua interiorità, attraverso il contatto con la natura. È anche per questo motivo che l'artista appena ha la possibilità si ritaglia del tempo da trascorrere immersa nel verde. Proprio come nel video che ha recentemente postato sul suo profilo instagram.rominapower e la meditazione Romina Power, artista americana con la passione per l'Italia, ha una passione che è diventata con il tempo una scelta di vita, la meditazione. L'artista statunitense la pratica da tempo e nel corso di un'intervista per Vanity Fari ha raccontato dei benefici che trae da questa disciplina. Può liberare la mente da un pensiero che ci tormenta, permettendoci anche di concentrarci sul valore e sulla preziosità della nostra vita umana. È stato scientificamente provato che la pratica meditativa favorisce l'espansione del cervello. Grazie alla meditazione ho imparato a tenere la mente sotto controllo e non il contrario, come avviene quando non usiamo la consapevolezza ha dichiarato Romina. L'artista si è avvicinata molto al buddismo e, in merito ha spiegato che, nel buddismo non parliamo di anima, bensì di continuum mentale. Esistiamo da sempre ed esiteremo per sempre. Non si muore mai. Il corpo si deteriora e muore, ma il nostro continuum mentale, invece, continuerà per sempre. Sono molto importanti, perciò, le impronte che lasciamo in esso. Poi per concludere le viene detto che ha una dote innata, quella di trasmettere serenità e lei, risponde, anni fa una signora mi confessò che per far dormire sua figlia le metteva una mia canzone. Sua figlia si rilassava e si addormentava felice. Se la mia musica può servire a rilassare, perfino dormire, per me va bene, ma basta che non sia durante i concerti. La mia musica può servire a rilassare, perfino dormire, per me va bene, ma basta che non sia durante i concerti. La mia musica può servire a rilassare, perfino dormire, per me va bene, ma basta che non sia durante i concerti.